Nicola Lopizzi, bella vittoria contro il Macchia Valfortore, sicuramente forse l'obiettivo era diverso quello di già essere il campionato di promozione però magari passo dopo passo ci potreste arrivare. Vittoria quindi finale per sabato prossimo, diciamo gara in scioltezza perché il Macchia poco è riuscito a fronteggiarvi. Sì, in settimana mi sono preoccupato soprattutto a livello psicologico per i ragazzi perché perdere il campionato per un punto non è affatto bello però i ragazzi sono stati sul pezzo già durante la settimana, volevamo la vittoria, volevamo la finale e ci siamo riusciti con un'ottima prestazione dei ragazzi. Senti, questo 4-0 vi dà anche la carica giusta per la finale, sabato prossimo si tornerà di nuovo a giocare qua, l'avversario sarà sicuramente una squadra della provincia di Foggia. Sì, devo dire che è stato un campionato dove le prime 4, sia noi guardia Alfiera, Biccari e Pietra Monte Corvinio erano 4 ottime compagini. Sicuramente sarà una partita difficile perché sia il Pietra Monte Corvinio che Biccari sono compagini impegnative e noi vogliamo sfruttare il fattore campo e il doppio risultato utile. Senti, contro il Macchia al Fattore hai visto una squadra concentratissima, carica a mille, forse quella è stata l'arma con cui vi ha permesso subito di chiudere la partita nel primo tempo. Sì, ma noi tutto l'anno siamo stati così, eccetto qualche partita che abbiamo avuto qualche defiance di troppo, ma per il resto questa è una compagine che meritava il salto di categoria. Senti, per te i successi continui, dopo Termoli, dove sei stato, sei stato, anche Maronella aver raggiunto questa finale comunque è un sinonimo di successo e l'hai portato avanti alla grande. Sì, questo è un lavoro biennale perché qui dall'anno scorso volevamo ripartire perché i ragazzi venivano da una retrocessione. Il collettivo è cresciuto tanto e vogliamo tornare nel campionato di promozione.